Traffico in tilt a Strasatti, proprio all'incrocio dove è il semaforo che porta poi a Petrosino per un incidente stradale avvenuto intorno alle 14. Un camion e un'auto si sono scontrate per cause ancora imprecisate. L'urto è stato violentissimo e alcuni sono rimasti a terra, alcuni per lo spavento, altri perché hanno subito qualche trauma. Sul posto è intervenuta subito l'ambulanza del 118 ma soprattutto sono lunghissime le file delle auto da una parte e dall'altra verso Marsala e verso Mazzara perché il traffico è completamente bloccato per dare modo alle forze dell'ordine di stabilire le cause dell'incidente. Non è nuovo questo posto a incidenti del genere, probabilmente quando il semaforo è verde, in orari in cui si pensa che non ci possa essere traffico, qualcuno decide di aumentare la velocità. Il botto di questo incidente si è udito a centinaia di metri di distanza e soprattutto sale anche il nervosismo da parte degli automobilisti che sono in coda.